Ciao da Nicoletta, eccoci in questo super gruppo, sono felicissima di poterne far parte. Sto vedendo come tanti colleghi e amici stanno condividendo esperienze, vissuti, pezzi di loro, strategie per un arricchimento veramente intenso verso un'evoluzione sempre più forte, sempre più presente, sempre più consapevole. Io ringrazio Angelo che è stato il favore di tutto questo e lo ringrazio anche per avermi dato la possibilità di esserci in modo random quando riesco perché spesso io ho già delle serate e quindi essendo che non ho mai giorni certi mi ha dato la possibilità di esserci quando riesco ed è la cosa più bella come dicevo. La mia prima sarà la prossima settimana, quindi il 25 sarò lieta e alle 7 e mezza so che un orario è un pochino particolare ma tanti sono già a casa a quell'ora, tanti sono magari in smart working e cosa farò? Non lo so, vi dico, mi conoscerete e non decido mai a priori cosa dire, cosa fare. Il mio carisma è proprio la capacità di improvvisare, di sentire le sensazioni del momento e da ricreare, condividere, costruire e quindi non potrò mai darvi cosa faremo perché sarà una costruzione passo passo che condivideremo insieme in un modo un po' così, lo vedrete. Quindi vi aspetto mercoledì 25 alle 19 e 30. Ciao, ciao ciao!